Noi raccontiamo quello che vediamo e naturalmente abbiamo un parco, un parco naturalmente, perché questo premio lo condivido con tutti i miei colleghi che non venne, raccontando quello che vediamo, raccontiamo la verità senza condizionamento e questo oggi è sicuramente un grande risultato e poterlo raccontare in questa terra è un doppio risultato e quindi mi ringrazio perché io sono di Napoli, sono vissuto da Napoli, quando sono sposato naturalmente vivo qui per stare vicino a mia moglie e vivo a Maniglia, quindi riceverlo qui per me è un doppio risultato perché mi fa sentire ancora più legato a questa terra, naturalmente io lo divido con la mia famiglia, con la mia moglie. E voi tornella? Sì. Perché ho dato che ci sta rumore fumando qui, con il donire con Cia di Nicolana, con... E naturalmente lo divido con tutti i miei colleghi, con i miei editori, con i miei più engi, quindi grazie veramente per il suo premio. Ma che bello scoprire che vi abbiamo contisciuto, proprio la Napoli da Napoli, la Napoli è sincera, un tiro di schiofa, la Maglianella, grazie di esistere, grazie a Napoli, la Napoli è sincera. A Gigi Ermetto, per i brillanti reportage giornalistici che hanno focalizzato l'attenzione sui tramite dei periferi del Tappi a Napoli. Prego per l'odoro, come la parola. Gigi Ermetto, ti prego? Gigi Ermetto, ti prego una pausa, una pausa a pranzo, vedo una bella pocarina, poi lei è burrosa, lei è burrosa, quindi non sa che si crea in tentazione. Un applauso.